I suoi colleghi sono un po' timidi, una previsione, Michi che hai eletto quando? Subito, alla seconda votazione, ovviamente con due o tre voti in più rispetto al cartello che abbiamo. Sembrava che avesse perso qualche deputato in aula, comunque non ci poteva... Si dice che in questo Parlamento perso un deputato se ne trovano altri due o tre.